La percezione anche secondo lei è che nelle ultime due partite ci sia stata un'involuzione a livello difensivo? Difensivo vuol dire tante cose, soprattutto quando noi stiamo attaccando, penso che oggi abbiamo concesso troppe ripartenze all'avversario, nella rimessa dal fondo dell'avversario stavamo cercando di indirizzare, orientare e portare un difensore fuori con palla, venendo a giocare nella nostra zona del campo per poter pressare e provocare l'errore dell'avversario, quando abbiamo preso il gol non l'abbiamo fatto, se no abbiamo cercato di cambiare e andare sull'uomo, nella fase difensiva tante cose, sicuramente la più importante per me è quando abbiamo la palla negli ultimi metri, la gestione tecnica, di fare bene l'ultimo passaggio, quando dobbiamo girare, quando dobbiamo avere pazienza, concludere bene le azioni e mantenere l'equilibrio di squadra per non concedere all'avversario di ogni volta di ripartire e questi 60-70 metri indietro poi da fiducia all'avversario. Noi non è la cosa ideale per mettere in difficoltà per tanto tempo una squadra come il Parma. Leila Dani. Guarda Tiago, ciao ben trovati, io credo che questo che hai detto tu sia, credo ho reso conto del fatto che uno poi difende nel modo in cui finisce l'attacco, quindi è questo il punto, se tu cambi filosofia, giochi con tanto campo alle spalle, porti tanti uomini all'ultimo terzo di campo per avere più linee, più soluzioni e più giocatori che possono andare ad occupare appunto l'area di rigore avversaria, dopo chiaramente ti difendi come gli altri ti riconquistano a seconda della posizione che poi trovi, quindi io credo che la mentalità, la strada è quella, semplicemente bisogna concludere meglio una cosa per poi fare meglio l'altra, io la vedo un po' così. Sono completamente d'accordo, questa è la nostra idea e dobbiamo portarla fino in fondo, più un momento della partita giocando così più in difficoltà metteremo l'avversario, ci sono delle volte che, o sbagliando tecnicamente o sbagliando il tempo del gioco, che non è il momento di accelerare perché la squadra avversaria si schiara e si mette tutti indietro e soprattutto contro una squadra che cerca questa situazione per poter ripartire dove noi non dobbiamo concedere, però tanti momenti abbiamo fatto bene e tanti altri no e è per questo che abbiamo concesso tantissimo alla squadra della squadra del Parma, delle volte dobbiamo avere più pazienza, giocare meglio nel campo avversario, non farli ripartire, insistere su queste azioni, insistere sulle seconde giocata perché se siamo bene organizzati le seconde giocata se la vinciamo noi non ripartono e possiamo anche in quel momento perché loro si aprono cercando di ripartire e poter colpire, sono tanti momenti nel metà campo avversario che possiamo costruire un'occasione da gol ed oggi dei momenti abbiamo fatto bene ma non sufficiente per mettere in grande difficoltà le squadre del Parma anche se abbiamo creato ma anche loro, giocare andate il ritorno non è quello che stiamo cercando, non è quello che vogliamo. Paolo Mberami? Sì buonasera mister, finora abbiamo visto sempre una Juventus che nelle fasi del campo ha sempre creato superiorità numerica, questa sera forse il Parma ti è venuto un po' a prendere come lo Stoccarda in Champions League e tu che vai sempre alla ricerca della superiorità numerica a volte soprattutto con SOM che ti copriva il passaggio su Locatelli e lì non siete stati capaci come al solito di uscire da queste fasi di gioco? Ma loro la pressione alta hanno fatto poco secondo me, sono messi in un blocco medio, è chiaro che giocando in quel modulo che hanno giocato è importante trovare una superiorità dentro sia con mano o con difensore centrale o con le mezzale, anche con l'aiuto di Dusan incontro e se si chiudono andiamo a trovare il nostro esterno che minimo minimo dobbiamo guadagnare campo e questo è un'organizzazione dove facciamo passare l'avversario, portiamo gli uomini dove dobbiamo portare e avere l'equilibrio del gioco e il controllo del gioco per poi finire le azioni a concludere. Spesso abbiamo fatto, fino agli ultimi metri abbiamo fatto bene, abbiamo portato la palla, abbiamo portato le squadre ma lì dobbiamo migliorare sicuramente e come l'ultima partita a San Siro soprattutto trovando nell'errore dell'avversario e ripartendo è quando abbiamo creato più pericolo alle squadre del Parma che dobbiamo continuare a farlo perché è una situazione di gioco importante, la transizione, ma dobbiamo anche fare molto meglio, portare la nostra squadra nel metà campo avversario e giocare bene a calcio con qualità e creare e concludere nel modo giusto per prima concludere bene e fare gol e secondo quando non riusciamo non far ripartire l'avversario. Grazie, grazie mille.